E' arrivato nell'aula bunker, accompagnato dai suoi legali poco dopo le 8 del mattino. Giorgio Orsoni è apparso teso prima dell'interrogatorio di garanzia del GIP Alberto Scaramuzza. Il confronto è durato poco meno di un'ora. Il primo cittadino ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee. Finito agli arresti domiciliari con l'accusa di finanziamento illecito, si è dichiarato innocente. Il suo legale, all'uscita dell'aula, ha parlato di provvedimento inaspettato, ribadendo le stranità e i fatti del suo assistito. Sono state una serie di dichiarazioni molto lucide, tranquille e serene che ha fatto il professor Orsoni, dichiarando che lui non ritiene sia addebitabile alcun tipo di responsabilità e proponendosi di dimostrarlo attraverso una fase di attività di indagini difensive e di integrazione della documentazione acquisita dalla procura. Orsoni è sicuro di dimostrare la propria innocenza, di smentire il grande accusatore Mazzacurati che dice di avergli consegnato alcune centinaia di migliaia di euro. Ne è profondamente convinto del fatto di riuscire a dimostrare che la sua situazione in questo contesto non va letta come è stata così. Si pensa che si risolverà tutto, che alla fine... Io spero anche in tempi relativamente brevi. Grasso ha precisato che la posizione di Orsoni è radicalmente diversa da quella degli altri imputati. Lui non c'entra assolutamente niente, lui non ha nessun rapporto con tutte le altre imputazioni. Non c'è nessuna dei contenuti delle imputazioni elevate nei confronti degli altri che possa riguardare la sua posizione. Al termine dell'interrogatorio Orsoni ha fatto ritorno nella sua casa sul canale grande. Come uomo dell'istituzione sta soffrendo tanto quanto soffre dal punto di vista umano.